E le leggende qualcosa di vero c'era? Era una signora ricca, bella. Però lei aveva sempre il pensiero che dopo morta nessuno si sarebbe ricordato di lei. Lei aveva tanto di questo oro e lo piaceva così e ci piaceva questa carrozza. La carrozza è una di quelle normali però ha d'oro. La mattina dopo la piazza non c'era più e era sparita la carrozza. Abbiamo trovato anche altre carrozze d'oro per gli eciuschi. Il fin di noi si spera di arrivare prima o poi è il rosatore della bellatilla.